Hai visto che ero Naruto? Eh, mi fa divertimento il video! Allora, a parte che parlo per tutta la chat, quello secondo non era Sasuke, era Kakashi. Chi è questo qua con la benda tutta strana e fottu... no? Eh? Eh, questo pure è Kakashi. Kakashi? Eh. È questo qua? Oddio! Ho tirato una palla! Anna! Cosa... Madonna! Cos'è? Non lo so che cos'è questo! Ma è bellissimo! Quindi non era Sasuke quello là? Madonna! No, quello di prima era Kakashi ma con la benda alzata. Cosa è se c'è Goku? Se c'è Goku potrei essere molto contento! Aspetta! Eh, sì, ok, ma non è molto buono però. Così? Eh, no, faccelo vedere questo... Eh, beh... Toma! È bellissimo! Eh, beh, uno meglio dell'altro, eh! Allora, io ti sfido a tenere quello di prima... Cosa c'entra questo? Quello è Vegeta! No, sono uno peggio dell'altro, Anna! No, devi tenere questo! No, quello di... Oh, un'aura potentissima! Che pizza! Però io dalla live mi vedo in ritardo, quindi io commento in ritardo le cose! Beh, questo... Vabbè, lasciamo perdere, dai! Fanno schifo questi filtri, non è possibile! Però, belli, però, belli! Ho fatto bene a non toglierli, perché c'era un periodo che li volevo levare! E invece ho fatto bene a tenerli, perché danno ancora grandi soddisfazioni, eh!